Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti, good morning Milano, come state? Tutto bene? Come va? Come va? Allora, siete mancati tantissimo ieri, ah sì, ieri è stata una brutta giornata perché non ho potuto darvi il buongiorno spero che la vostra giornata sia andata bene, mi auguro che stiate bene anche voi questa mattina comunque noi siamo qua sempre per raccontarvi tutto quello che succede in città, per raccontarvi tutto quello che avviene nella nostra Milano e lo facciamo qui in diretta su Crystal Radio su 96.2 FM e sul DAB Plus in tutta la Lombardia andiamo avanti tutta la mattina, come sapete fino alle 9 in diretta e mi raccomando scriveteci 3317853555 il nostro numero di Whatsapp sempre pronto qui per voi, per avere tutto insieme a voi noi facciamo tutta la mattinata insieme a voi, tutta la giornata insieme a voi ebbene sì, qui in diretta appunto su Crystal Radio partiamo con la musica adesso perché è il momento di Justin Timberlake con No Angels Justin Timberlake, No Angels alle 7 e 12 minuti qui su Crystal Radio di oggi giovedì 11 aprile siccome sentite insomma la voce non è proprio delle migliori quest'oggi, lo so, lo so non è facile dopo aver avuto febbre forte e alta per un paio di giorni, ieri infatti non ho potuto essere qui con voi, mi siete mancati tantissimo e questa mattina devo dire la verità, non è molto semplice, soprattutto non è semplice collegare i pensieri alle parole passando da una gola che brucia, non è facilissimo ma insomma ce la faremo e cercheremo di farla so che insomma non sono anche l'unico, tra parentesi, in questo periodo è acciaccato da malanni di stagione primaverile perché molto probabilmente è quella, cioè ci sono tante cose, c'è le allergie, poi c'è il cambio di stagione che ti butta giù, insomma pressione che va giù, va su, tutte queste cose qui e poi anche comunque un raffreddore che sta un po' colpendo un po' tutti quanti, anche qui noi in redazione siamo abbastanza afflitti da questa cosa e insomma cerchiamo di portarci a casa anche oggi la nostra quotidianità voi cosa fate invece? 3317853555, mi raccomando questo è il numero di whatsapp a cui potete scrivere, ricordatevi che oggi se prendete i treni di Trenord c'è lo sciopero ma che se prendete invece i mezzi ATM non c'è lo sciopero, ok? Infatti aggiornamento sullo sciopero generale dell'11 di aprile, leggo dal sito di ATM, l'11 aprile i sindacati CGL e Will hanno proclamato lo sciopero generale a livello nazionale di tutte le categorie a Milano il prefetto ha precettato i lavoratori ATM per motivi di ordine e sicurezza pubblica legati a due eventi che si tengono nella giornata di oggi in città, c'è la riunione ministeriale dei trasporti del G7 e l'incontro di calcio Milano-Roma questa sera e quindi cosa succede? Linee ATM, tutte le linee metropolitane e di superficie saranno in normale servizio, tutti quanti tram, autobus, metropolitana, tutto che funziona. Le linee net invece, quelle esterne alla città potrebbero avere delle conseguenze dettate allo sciopero, delle linee extraurbane e urbane di Monza, dalle ore 20 fino a mezzanotte, ok? Funicolare invece di come Brunate, sapete essere gestita da ATM, lo sciopero potrebbe avere conseguenze sul servizio dalle 19.30 alle 22.30. Non credo, chissà se anche Salonico e Copenaghen fanno sciopero quando fa sciopero ATM a Milano, no non credo, sapete che le due metropolitane sia di Salonico che di Copenaghen sono gestite da ATM, ma non credo che facciano sciopero quando facciamo sciopero anche noi, no non credo. Quindi niente, oggi tranquilli, se dovete girare in città con i mezzi non ci sono problemi, tranne appunto il fatto che saranno magari un po' più rallentati in alcune zone, ma più che altro per il traffico che ci sarà intorno alla partita, anzi ricordiamo che appunto per quanto riguarda la partita invece l'AM1 e l'AM5 chiuderanno più tardi, l'ultimo treno che partirà dall'8 verso Sesto San Giovanni per l'AM1 partirà intorno a mezzanotte e 55, quindi quasi a luna di notte e invece gli ultimi treni che partono da San Siro Stadio e da Mignami per San Siro Stadio, quindi in entrambe le direzioni, partiranno intorno a mezzanotte e mezza. Chiudono invece al solito orario la M2, la M3, la M4 e la tratta, attenzione perché l'AM1 non è tutta allungata, la tratta Pagano Bisceglie chiude normalmente e anche l'8 Rho e anche Sesto Rho, quindi solo per andare via dalla zona dello stadio. Ci c'è poi appunto l'incontro ministeriale della G7 e quindi vediamo un po' com'è la situazione del traffico a Milano in questo momento. Sofì and the Giants, 7 e 20 minuti, Crystal Radio, continuiamo con le notizie, anzi iniziamo un po' a leggere le notizie che arrivano dai giornali e sapete che se c'è una notizia di cui si parla di più dello stadio, o meglio da più tempo dello stadio, è tutto quello che riguarda la famosa moschea che a Milano non c'è ancora. Pensate, io lavoravo a Tele Lombardia negli anni 90, fino agli ultimi anni 90 e già il tema era questo. Siamo arrivati al 2024 e oggi su Repubblica Milano leggiamo ancora della fantomatica moschea che potrebbe arrivare a Milano nel 2026. Insomma, niente male, più di 30 anni per riuscire a capire cosa fare e come farla. Comunque, leggiamo da Repubblica, a Milano arriverà una grande moschea nel 2026, due piani per pregare in via esterle, ma niente minaretto. Mi raccomando, subito mi mettere tutti i suoi. Pronto il progetto di Asfah Mohamud, sarà un luogo che dialogherà con il contesto del quartiere. L'articolo dice che arriverà nel 2026 una grande moschea per Milano, appunto in via esterle, non lontano da via Padova, dove la Casa della Cultura Musulmana ha vinto un bando comunale con l'accessione trentennale per l'edificio che una volta era dell'Enel e che diventerà invece un luogo di culto per la comunità islamica. sta quindi per essere completato e presentato agli uffici dell'urbanistica il progetto firmato da Asfah Mohamud, architetto di origini giordane, da 40 anni in Italia, da 30 alla presidenza dell'associazione che prega ad oggi in via Padova 144. All'urbanistica verranno chieste anche le autorizzazioni per la demolizione del fabbricato esistente e la ricostruzione ex novo. Tempi previsti per il rilascio del via Libera, sei mesi. Il cantiere potrebbe quindi partire in autunno e la previsione è che i lavori durino dal 18 ai 24 mesi. Noi siamo pronti, appena ci arriva il permesso, speriamo prima possibile, si parte così, dicono appunto gli interessati. Sarebbe appunto la volta buona questa che vedrà quindi arrivare in una città, insomma, 1.400.000 abitanti, una capitale europea, nonostante non siamo una capitale, lo diciamo sempre. La più piccola metropoli d'Europa, come dice mio amico Simone Lunghi, sta di fatto che però appunto da più di 30 anni si parla di una possibile moschea in città, siamo veramente una delle poche città in Europa a non avere una moschea, avere invece altre situazioni molto più difficili da controllare, molto più difficili da gestire, finalmente forse qualcosa si muove. Devo dirvi che appunto, come vi stavo dicendo prima, già alla fine degli anni 90 si parla di questo tema, il arriverà la moschea entro e mettete una data a caso, mettetela voi, devo dire che l'ho già letto tante 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 volte e quindi insomma non so. Ricordiamo che l'unica moschea vicino a Milano attualmente, una vera e propria moschea, è a Segrate, quella di Segrate, una piccola moschea che c'è, molto carina, piccolina, siamo stati più di una volta anche a intervistare l'imam e a fare appunto delle interviste molto interessanti con l'imam della moschea di Segrate. È l'unica moschea ufficialmente chiamante moschea della zona di Milano. Ci sono poi appunto i centri culturali, le zone, altre associazioni di preghiera, altre associazioni islamiche che invece pregano diciamo in alcune sale nelle varie zone di Milano ma che non sono appunto ufficialmente delle moschee. Da quanto sembrerebbe appunto con questa vittoria. Ricordiamo che già qualche anno fa era stato vinto un bando da un'associazione ma poi c'erano stati dei ricorsi al Tar, c'erano stati dei ricorsi, poi era successo un po' di tutto e tutto era finito nel nulla e quindi adesso vediamo un po' come andrà questa cosa qui. La notizia arriva appunto poi nel giorno ieri della fine del Ramadan, quindi insomma grande festa per la comunità islamica. Le vibrazioni tantissimo, 7 e 33 minuti, giovedì 11 aprile e stiamo parlando, anzi adesso iniziamo a parlare ovviamente di teatro perché è giovedì e lo facciamo insieme a chi? Insieme a Tamara Malleo. Buongiorno Tamara. Buongiorno, buongiorno agli ascoltatori e agli ascoltatrici di Cristal Radio e di Good Morning Milano. Buongiorno Fabio, come stai? Ma insomma, la mia voce lo dice bene come sto, quindi lasciamo, anzi quest'oggi lascio volentierissimamente ancora più del solito la parola a te, così almeno oggi mi aiuti ancora più del solito. Oltre a darci delle buone indicazioni su come fare a nutrire la nostra anima, il nostro intelletto, aiuti anche un povero malato che sta facendo la diretta questa mattina. Allora, stamattina abbiamo tre spettacoli molto diversi fra loro. Partiamo subito da uno spettacolo per bambini e bambine perché ho pensato che in realtà io non parlo molto della fascia d'età, diciamo molto giovane e invece questo è uno spettacolo ideato da Chiara Stoppa. Chiara Stoppa è un'attrice bravissima che lavora come scritturata in molti spettacoli ma soprattutto è presidente di Atir Ringhiera che è un teatro che per tanti anni è stato presidio nella zona di Gratosoglio di tutta appunto del teatro Ringhiera che creava tantissime attività all'interno nello spazio diciamo così della zona di Gratosoglio il cui teatro è stato chiuso almeno cinque anni fa per ristrutturazione ma non è stato ancora riaperto e non ci sono ancora date di riapertura. Non ci sono buone notizie intorno a dati per il momento. No, ancora no. Speriamo invece che ci siano perché è sempre stato un presidio culturale e sociale importantissimo per quella zona anche perché faceva tantissimi laboratori. I laboratori continuano ad esserci e Chiara Stoppa porta avanti molti laboratori con bambini e bambine e per questo gli spettacoli che fa riguardo questa fascia d'età sono veramente molto attenti, molto delicati frutto di un lavoro di tanti anni. In questo caso sabato 13 avrete la possibilità di assistere ad uno spettacolo in uno spazio molto bello che si chiama Libreria Scamamù in zona d'Ergano quindi raggiungibile con la metropolitana gialla e lo spettacolo si chiama Dori Fantasmagorica. È un libro di terra di mezzo quindi un grande classico diciamo così edito da terra di mezzo che viene rivisitato da Chiara Stoppa e dalla fisarmonica di Giulia Bertazzi quindi c'è anche il mondo della musica che secondo me ai bambini affascina molto e coinvolge moltissimo. È la storia di una bambina di sei anni con un fratello e una sorella che la prendono un po' in giro per la sua grandissima immaginazione. A un certo punto le dicono che una strega verrà a prenderla e lei anziché spaventarsi comincia a fare tutta una serie di domande per chiedersi come questa strega potrebbe venirla a prendere e quindi in questo racconto si mostra quanto i bambini a volte noi vogliamo in qualche modo spaventare per renderli più innocui. In realtà la paura se attraversata con domande e con un approccio critico in qualche modo può essere assolutamente affrontata senza drammi. Quindi vi consiglio sabato 13 alle 17.30 alla libreria Scamamu in zona d'Ergano Dori Fantasmagoica, quindi un spettacolo dai cinque anni in su secondo me anche molto bello appunto per le famiglie perché Chiara Stoppa è veramente un'attrice molto brava che lavora molto sulla voce e soprattutto su un approccio con gli spettatori e le spettatrici più piccole. Poi ci spostiamo e andiamo in uno spazio che a te piace molto che è Factory 32. Ah sì sì sì. Torniamo in zona Barona e in questo caso Factory 32 accoglie una compagnia che è la compagnia di Antonello Antinolfi e Francesco Reschiera che si chiama Il Teatro del Simposio. Lo spettacolo si chiama Reparto numero 6, un grande classico di Anton Chekhov e in questo caso appunto il Teatro del Simposio ha lavorato moltissimo sui classici negli anni perché è una compagnia che ormai si è affermata negli anni e in questo caso si parla appunto i due protagonisti sono un dottore e il malato di mente Gromov. Si incontrano, Gromov è convinto di essere un grande intellettuale, cominciano un dialogo tra loro e si parla appunto non soltanto della sanità mentale, stiamo parlando comunque di un tema della follia ma anche dell'identità, della percezione della fragilità umana e anche della complessità dell'essere umano, di quanto le definizioni poi alla fine sono soltanto delle gabbie e di quanto invece in realtà la mente possa portarci in mondi davvero sconosciuti e che l'approccio con la memoria, con la storia e con la mente può in realtà portarci in un lavoro davvero molto complesso, in questo caso accompagnati dalle parole di Anton Chekhov. Lo spettacolo sarà in scena da venerdì 12 a domenica 14 a Fatto di 32 in via VAT, quindi raggiungibile con la metropolitana verde fermata a Rolo e poi con la linea 47, quindi comunque abbastanza raggiungibile anche con i mezzi e comunque c'è un parcheggio in zona quindi facilmente insomma raggiungibile con ogni mezzo. Chiudo questa carrellata. Dove andiamo? Dove andiamo adesso? Dove andiamo? Dove andiamo? Al Teatro Elfo Puccini, in zona, diciamo, in Corso Buenos Aires, quindi metropolitana rossa o Lima o Porta Venezia ma la cosa importante è che questa è una compagnia, stiamo parlando, lo spettacolo si chiama Gramsci Gay allora lo spettacolo è diretto da un giovane regista che è anche attore, si chiama Matteo Gatta e l'interprete è Mauro Lamantia che è bravissimo, che è stato in questi mesi in scena con Edi Purè quindi con un altro grande classico. In questo caso il testo è di Jacopo Gardelli e il testo è abbastanza importante perché? Perché noi mettiamo a confronto due epoche 1920-2019 nel 1920 un giovane Antonio Gramsci, non ancora trentenne, si confronta con gli operai torinesi per convincerli che la strada dell'agitazione, perché stiamo parlando dello sciopero delle lancette a Torino per instaurare, diciamo così, 200 laboratori erano pronti a instaurare la rivoluzione comunista in Italia Antonio Gramsci parla con questi operai per convincerli che la strada dell'agitazione è ancora giusta da percorrere Cosa succede? Questo episodio in particolare viene riproposto in qualche modo nel 2019 perché nel carcere di Turi viene imbrattato un murales dove appunto veniva rappresentato Antonio Gramsci con la scritta gay sopra e in questo carcere aveva passato 5 anni Gramsci in prigionia scrivendo alcuni dei suoi quaderni. Allora, loro sono partiti, diciamo così, da questa connessione storica per parlare del rapporto fra politica e indifferenza. Oggi la parola politica e soprattutto la partecipazione politica è un tema molto complesso perché nelle nuove generazioni, diciamo così, c'è una partecipazione politica molto ormai rarefatta in qualche modo. L'impegno politico non viene visto come un impegno e c'è grande disillusione del mondo politico, di quello che la politica può fare per cambiare quello che succede intorno a noi. In questo caso dei giovani ragazzi hanno deciso di partire da un evento storico, quindi da un qualcosa di veramente accaduto per riflettere sulla politica oggi. E secondo me è un atto di partecipazione reale, di riflessione reale e di connessione reale. Peraltro Matteo Gatta con appunto Mauro Lamantia lavorano anche molto sul linguaggio e quindi su un approccio a un pubblico giovane, un pubblico che può riconoscersi in quel tipo di linguaggio anche se stiamo parlando di temi che forse apparentemente non gli appartengono. Quindi Gramsci Gay lo trovate al teatro Elfo Puccini per tutta questa settimana fino a domenica. Elfo Puccini quindi si trova in Corso Buonasai, Es, Metropolitana Rossa, Lima o Porta Venezia. Porta Venezia, benissimo. Quindi abbiamo fatto dalla politica a spettacoli per bambini proprio per ricordarvi che il teatro attraversa ogni storia nel modo in cui quella storia deve essere raccontata al pubblico. Quindi c'è una diversificazione incredibile che voglio sempre ricordarvi. Ogni pubblico ha il suo teatro, quindi insomma chiunque di noi può ritrovare nel teatro qualcosa che lo nutra. Tamara, ricordaci anche dove possiamo invece seguire te e trovarti. Sei sempre troppo gentile. Allora, il venerdì Teatro Mania su Milanao dalle 16.40, canale 191 del Digitale Terrastra e invece il lunedì su Antenna 3 dalle 23.30, canale 11. Grazie mille sempre Fabio. Speriamo che la prossima settimana tu possa rifiorire. Lo spero anch'io, devo dirti la verità. Ma spero già domani, devo dire. Vorrei già domani riuscire a essere più sul pezzo rispetto a oggi. Oggi anzi grazie davvero per avermi aiutato anche in questo. Come sempre importantissimi i tuoi consigli e come sempre appunto grandi consigli che possono aiutarci veramente a far diventare come dici tu il teatro un'abitudine così che possa entrare in noi. Grazie per questo sforzo comune perché secondo me bisogna lavorarci però alla fine si possono portare a casa dei piccoli risultati. Grazie Fabio. Grazie anche a te Tamara. Allora ci vediamo, ci sentiamo giovedì prossimo. Buona settimana. Grazie mille. Buon lavoro. Anche a te. Buon lavoro anche a te. Andiamo avanti con la musica qui su Crystal Radio. Stiamo parlando di Cosmo con l'abbraccio. Cosmo l'abbraccio. L'abbraccio che arriva a tutti voi. nonostante non posso, sto distante che non si sa mai perché non so se sono contagioso o no quindi non credo eh perché comunque la febbre sta passando ma ahimè forse sta tornando quindi vi aggiornerò sui nostri sui miei social per eseguire le vicende di temperature che salgono e scendono. 331-7853-555 grazie al Whatsapp. Alberto ci scrive buongiorno Fabio bentornato ci sei mancato anche voi mi siete mancati Alberto ma riguardati eh sì ci provo oggi per fortuna sarà una bella giornata un saluto anche a tutti i cristallini ebbene sì saluto a tutti coloro che sono in ascolto in questo momento e grazie ancora come sempre di passare la vostra mattinata insieme a noi qui a Good Morning Milano bella giornata oggi quindi le temperature dovrebbero alzarsi dovrebbe smettere la pioggia dovrebbe lasciare spazio al sole e quindi speriamo che secondo si scaldi l'ambiente e anche la malattia e anche le varie febbre di stagione se ne passino e se ne vadano invece oggi Milano è una giornata dove ci sarà un po' di traffico non tanto per lo sciopero dei mezzi che non c'è quindi scongiurato lo sciopero dei mezzi ATM per la precitazione del prefetto ma perché c'è il G7 dei ministri dei trasporti appunto prende al via oggi leggiamo da Milano Today la riunione del G7 sui trasporti a Milano che durerà fino a sabato 13 aprile attesi in città i ministri di l'ho scritto Kanda invece di Canada i ministri di Kanda un nuovo paese no di Canada Francia Germania Giappone Italia Regno Unito e Stati Uniti con delegazioni ufficiali attenzione puntata sulla sicurezza pubblica il prefetto Claudio Sgaraglia con il capo delegazione del G7 Nicola Lener e capo di gabinetto del ministro dei trasporti Alfredo Storto ha esaminato il programma della tre giorni le riunioni del comitato provinciale è servita per riepilogare le misure predisposte per garantire appunto la sicurezza ad esempio vabbè questa qui allora su richiesta della prefettura è stato adottato è stato adottato l'ENAC vabbè è stato adottato dall'ENAC ma è venuto a scrivere un articolo senza 200 errori di battitura oppure un provvedimento di divieto di servolo del centro città dalle 19 del 10 aprile alle 19 del 13 aprile volevo dirvi che in realtà c'è sempre questo divieto solo che in questo caso anche se chiedete il permesso non ve lo danno la differenza è quella cioè Milano no fly zone sempre bisogna sempre chiedere i permessi anche per far volare ad esempio un drone per fare riprese video ad esempio così ve lo dico per quelli che sono comprati sono felici di andare in piazza del Duomo a fare le riprese non potete ripidate 10.000 euro di multa poi i vigili del fuoco hanno disposto un servizio di pronto impiego con autopompe personale specializzato schierato nei luoghi interessati dagli eventi l'agenzia Areu 118 dedicato a chi presenzierà agli incontri poi in occasione delle riunioni ministeriali anche ATM ha provveduto a una serie di cambiamenti disposti dall'autorità piazza Fontana e piazza La Scala ad esempio chiuderanno al traffico quindi dalle 19 del 10 aprile alle 19 del 13 aprile il tram 24 verso piazza Fontana termina la corsa in via larga quello in direzione di Vigentino parte invece da piazza Missori nelle stesse giornate il tram 29 quindi in questi giorni anche il tram 29 riparte termina e riparte da largo Augusto e invece infine dalle 15 al termine di servizio del 12 aprile il tram 1 in entrambe le direzioni devia e salta le fermate tra Repubblica e Domodossola scusate è partito un non è poco non è poco così tanto non è per niente poco vabbè andiamo con un po' di musica gemelli diversi Sì sì Music Factory here we go il Cristalistori delle 8 qui su Cristal Radio Good Morning Milano ben tornati sui 96.2 FM e sul Dub Plus ma anche vi ricordo sempre sulla app per iOS e Android sul sito internet cristalradio.it oltretutto vi ricordo sempre anche il nostro sito internet di Good Morning Milano goodmorning.milano.it potete riascoltare tutto e rivedere tutto quello che avviene qui la mattina tutte le mattine dalle 7 alle 9 dal lunedì al venerdì gli ospiti i nostri collegamenti le interviste i nostri momenti di lettura delle notizie insomma tutto quanto pronto lì sul nostro sito internet sia in versione video che in versione solo audio grazie al podcast di Spotify leggiamo invece la teoria della sera Milano una notizia che in realtà quasi tutti gli anni leggiamo e siamo contenti però di continuare a leggerla perché Bocconi è Politecnico nella top 10 delle 1500 migliori università del mondo dal marketing al design il QS World Ranking stila annualmente la classifica degli atenei per corsi di laurea a livello internazionale Politecnico al settimo posto in architettura art e design nono posto in ingegneria meccanica Bocconi tra le prime 10 per marketing ed economia ebbene sì quindi ancora una volta come tutti gli anni insomma per fortuna si attestano ancora le due università milanesi tra le prime 10 pensate sono 1500 quelle che si prendono in considerazione ma insomma siamo tra le prime 10 quindi università e Bocconi sono le eccellenze milanesi per alcune discipline di studio come diciamo appunto il MyRankingQS analizza i dati di oltre 1500 università di tutto il mondo ed è basato soprattutto sulla reputazione conquistata nell'opinione di professori e ricercatori e presso le imprese una classifica che si è imposta come uno degli strumenti più utilizzati al momento nella scelta delle università il ranking consente di individuare qual è il miglior ateneo di ogni paese per ciascun corso appunto di studi e quindi il Politecnico si piazza settimo nel mondo come architettura come quindi nel corso di architettura ma anche nel corso di arte e design ed ottiene oltretutto un nono posto quindi comunque ancora nella top 10 per quello che riguarda l'ingegneria meccanica sempre ricordiamo appunto a livello internazionale sono importante ed interessante questa collocazione del Politecnico come una delle grandi eccellenze mondiali e infatti sappiamo anche quanti quanti fuorisede internazionali ci sono all'interno del Politecnico di Milano che anche nelle altre comunque si piazza bene pensate che invece la Bocconi che è settima in marketing che è ottava invece l'anno scorso quindi sale su anche di una posizione anche la Bocconi si ritrova nona in economia gestionale dove invece lo scorso anno era settima quindi lì un piccolo flessione ma è comunque alta nella top 20 diciamo anche in altri corsi perché ad esempio è sedicesima in economia ed econometria e diciassettesima in contabilità e finanza anche l'Università del Sacro Cuore rientra nella classifica al 31esimo posto a livello globale e invece Yulm entra in crescita nella classifica ma molto più in giù molto più in basso all'altezza alla posizione numero 160 per l'Università per il corso di Lease Room Management turistico ok quindi queste sono le eccellenze ovviamente dopodiché 160 è una posizione apparentemente bassa però su 1500 non è male non è male attenzione appunto quindi che comunque il Politecnico si attesta veramente tra le più alte nei suoi corsi a livello internazionale quindi ecco un buon motivo anche per venire a studiare a Milano Bonnie Tyler Total Eclipse of the Heart ebbene sì no non è Jimmy Fallon perché vi dico questo perché l'avrete visto sicuramente l'8 aprile pochi giorni fa in occasione dell'eclissi totale di sole avvenuta e ben visibile negli Stati Uniti d'America Jimmy Fallon ha presentato una versione live di questa canzone cantata dal da 30 Rock dal tetto del Rockefeller Center al numero 33 perché al trentesimo piano comunque dal tetto del 30 Rock una bellissima versione appunto di questa canzone come sempre fatta alla grande perché insomma gli americani lasciano fare bene quando vogliono fare lo spettacolo la cosa interessante di questa canzone è che è balzata al primo posto l'8 aprile in quasi tutte le classifiche soprattutto nella classifica di iTunes America è rimasta tutto il giorno in meta la classifica tanto che quando Bonnie Tyler ha saputo questa cosa pensate canzone uscita nel 1983 quando Bonnie Tyler ha saputo questa cosa appunto ha pubblicato una story ringraziando tutti quanti citando un passo della sua canzone nothing I can say cioè non ho nulla da dire l'emozione se fosse stato qualcun altro avrebbe detto l'emozione in una voce avrebbe potuto dire così comunque pensate appunto cosa può succedere una canzone appunto che ha più di 40 anni e a un certo punto arriva un eclissi Jimmy Fallon la fa in live nel suo show in una versione davvero magistrale che diventerà iconica per i prossimi anni sicuramente la gente si appassiona e l'ascolta 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 tanto da farla tornare prima in classifica ben 40 anni dopo la sua uscita insomma canzone che in realtà ricordiamo è abbastanza virale ultimamente a prescindere dall'eclissi non so se avete mai visto i video quello dove c'è un Alexa o un altro smart speaker che fa ascoltare la canzone e c'è un cane davanti che ogni volta che sente turn around gira su se stesso non l'avete visto cercato molto divertente devo dire fa molto ridere quindi già era diventata virale grazie a questi video poi adesso appunto la consacrazione è avvenuta grazie all'evento eccezionale dell'eclissi solare totale e alla congiuntura verrebbe dire astrale con Jimmy Fallon che mi ha fatto diventare appunto una versione super trend in questo momento che insomma grazie grazie mille anche a chi ci sta scrivendo in questo momento perché Nello ci scrive al 33178535555 Ranfi non ci fare più scherzi ieri ci siamo sentiti soli lo so anch'io pensate che anch'io mi siete mancati veramente tanto e dice oggi hai la voce da crooner magari potrei cantare un po' della Michael Bublé qualcosa del genere qualcosa di un po' più alto ancora comunque grazie grazie Nello per il messaggio e grazie veramente a tutti voi che ieri so che vi siete sentiti un po' mancare qualcosa nella vostra quotidianità che poi non è l'importanza non sono io non sono Fabio non è quello la quotidianità è la routine la mattina è fondamentale la routine io ieri ve l'ho scombussolata e quindi davvero vi chiedo perdono vi chiedo scusa per aver fatto questo errore per aver fatto questa mancanza irrispettosa verso voi che ci ascoltate tutte le mattine prometto che spero non posso promettere perché non lo so perché la febbra sta tornando tra mentesi quindi non lo so se posso promettervelo cercherò di evitare diciamo così cercherò di evitare al massimo la faccio in diretta telefonica dal letto nella prossima se non mi va bene andiamo avanti con la musica invece pensate io 40 anni passati da poco e sono conciato così quell'altro 80 anni e balla canta ancora come fosse nato ieri sto parlando dei Rolling Stone un bel gruppetto di 80 anni che cavolo cavolo se cantano Dominic Fake Mona Lisa Smile 8 e 32 minuti giovedì 11 aprile ma adesso abbiamo un nostro graditissima ospite qui in collegamento con noi Anna Castiglia buongiorno Anna ciao Fabio buongiorno 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 a Anna Castiglia allora perché l'abbiamo qui perché finalmente domani sarai in un concerto qui a Milano dopo aver girato praticamente tutta l'Italia torni a Milano a portare la tua musica la tua musica che insomma quest'anno sta spopolando c'è poco da fare tutto allora ad esempio prima cosa è tutto arrivato così velocemente come sembra da chi magari non ti conosceva oppure è tutto un lavoro molto più lungo che magari i più distratti non si sono accorti che c'era allora non faccio musica da quest'anno per cui è un lavoro lungo assolutamente una gavetta anche lì lunga però gli ultimi avvenimenti diciamo che sono stati molto veloci quindi entrambe le cose sicuramente l'esposizione più grande anche un pubblico più grande è arrivata molto velocemente di conseguenza tutto quello che sta succedendo tour singoli collaborazioni abbiamo sentito anzi diamo subito la notizia la ridiamo anche se ieri l'hai data di una collaborazione importantissima per il tuo prossimo singolo giusto sì esatto Whitman Whitman con che uomo con Whitman in quel caso quale uomo ha fatto la collaborazione con te Gammon è insomma sì interessante la scelta però anche Gammon è uno che sta facendo una cosa molto particolare in questo momento in giro nei teatri con uno spettacolo reading musica cioè non si capisce bene cosa sia finché non andate a vederlo quindi insomma è interessante questo tu comunque appunto nasci da una storia cioè nasci appunto da un percorso lungo appunto perché sono anni che porti in giro tu dicevi anzi Whitman leggevo in un post che hai detto sono quattro anni che in realtà me la lavoro un po' no dicevi poi finalmente è uscita però tu sei stata lanciata così tu sei forse un caso più raro che l'unico anzi mi viene in mente cioè sei l'unica l'unica che non ha partecipato a X Factor ad avere però tutte le puntate di X Factor ti nominavano cioè com'è sta storia che senso ti dava quella cosa lì no mi faceva anche ridere a un certo punto però no mi ha dato grande gioia perché ovviamente quando giri il programma non hai idea di come andrà ovviamente pensavo che fosse andata male perché di fatto è andata male nel senso mi ha eliminato brava sulla carta tu hai tu hai perso anzi non ti hanno neanche accettato ti hanno detto no ti hanno sbutto la porta in faccia in un certo senso no così verrebbe da leggere comunemente poi invece eh no poi invece la risposta del pubblico è stata bellissima mi ha dato molti sì e molta gioia anche autostima e anche stima nei confronti del pubblico che ci fanno credere che sia scemo che voglia che voglia ascoltare solo una cosa ma non è così eh perché poi c'è questa cosa qui nel senso tu hai un pubblico che ti segue e come che ti segue nel senso che proprio si è subito creata una grandissima comunità mi dovrebbe dire non tanto una community ma quasi una comunità intorno intorno a te però tu non fai la trap non fai non fai il rock dei maneskin non fai cioè fai una musica abbastanza tua in un certo senso potremmo definirla indie in un certo senso ma comunque è roba molto tua no sì infatti questo mi stupisce nel senso è una bella dimostrazione che il pubblico ha anche voglia di novità ma nemmeno novità perché quello che faccio è anche ispirato al passato quindi è super bella questa cosa mi ha dato molta speranza cioè tu dici Anna che lo facciamo giustamente tu mi dicevi prima lo facciamo troppo scemo il pubblico in realtà non è così sì e infatti non è proprio così quindi era anche strano sentirmi nominare durante le puntate io ovviamente poi un po' lo seguite anche dopo l'eliminazione e mi piaceva ridere mi arrivavano delle storie tipo bevi uno shot ogni volta che Anna Castiglia viene nominata sì c'è gente che è dovuta finire in alcolisti anonimi per colpa di questa cosa adesso effettivamente ma com'è stato però il momento in cui in realtà però tu hai detto ecco ho fallito sto giro ho perso non mi hanno presa per ben due volte poi altrettanto è quella la cosa che è divertente di questa storia tu hai avuto anche la possibilità di rientrare e niente non ce l'hai fatta neanche lì però poi com'è stata però la sensazione in quei due momenti com'è stata la sensazione il primo momento molto brutta per vari motivi anche per i motivi per cui sono stata eliminata non lo so cioè comunque da lì è stato un po' brutto è difficile riprendersi perché ho pensato seriamente che in Italia non ci fosse posto per me per il mio stile per quello che faccio dopo invece è stato bello comunque perché già avevo iniziato la mia collaborazione con OTR Live sapevo che se non fossi entrata a X Factor sarei andata ad aprire Max Gazze quindi ero tipo al settimo cielo lo stesso ed ero strafelice comunque l'ho presa bene sul ridere mi ha fatto comodo un'altra apparizione è andata bene alla fine cioè Anna mi stai dicendo che se ti avessero preso X Factor tu non avresti aperto i concetti di Max Gazze perché ero contemporanea e quindi chissà se poi veramente sarebbe andata così dopo la cosa interessante anche del tuo personaggio è che hai un tuo stile in tutto quello che fai quanta ricerca c'è per questa cosa? ma in realtà più che ricerca io sto cercando ultimamente sempre di assecondarmi perché è molto difficile far uscire la verità dato che ci riempiamo di artifici di giudizi degli altri e li indossiamo per piacere a tutte e tutti e quindi ultimamente mi chiedo tutti i giorni mi piace questa cosa mi vesto così perché me l'hanno detto o perché mi piace e quindi è un processo non è ancora definitivo non penso ancora di essermi mostrata al cento per cento però credo sia un processo che mi accompagnerà per sempre quello di assecondarsi e cercare di mostrare sempre la verità e poi comunque viviamo in un mondo appunto dove l'apparenza ahimè è molto importante anche soprattutto per quanto riguarda i social le parole chiavi ancora di più tant'è che tu hai fatto una genialata il tuo brano più famoso si chiama Gali cioè qualcosa che veramente qui altro che se o tag o cose del genere parole chiavi nel senso è stato geniale e anzi io direi una cosa Anna ascoltiamocelo così che chiunque si sta ascoltando in questo momento Cristal Radio sa di cosa stiamo parlando ci ascoltiamo appunto Gali di Anna Castiglia poi torniamo ancora qui a parlare perché appunto dobbiamo dire che domani domani c'è il concerto di Anna Castiglia all'Arci bellezza e quindi andiamo con Gali Anna Castiglia alle 8 e 39 minuti qui su Cristal Radio Anna Castiglia con Gali alle 8 e 42 minuti qui su Cristal Radio FM 96.2 DAV Plus in tutta Lombardia Anna ancora in collegamento con noi perché appunto ci devi dare l'appuntamento per domani sera dove sei e dove possiamo trovarti domani sera Anna allora domani sera sarò con la mia band all'Arcibellezza a Milano dalle 21 21 e 30 sono felice di comunicare che è un sold out che però ha una lista d'attesa che penso scorrerà perché magari chi ha perso il biglietto tempo fa non è detto che poi venga quindi siete ancora invitati magari qualcuno ha preso la febbre come me qualcuno ha la febbre come me non può venire effettivamente è molto probabile e la sfortuna di qualcuno sarà la fortuna di qualcun altro benissimo c'è la tua band ma poi c'è anche un collettivo di cui tu fai parte no? raccontami un po' questa storia che è interessante più la ci siamo letti velocemente fuori onda poi siamo entrati in onda non l'hai potuto raccontare dimmi un po' sì è un collettivo femminista di cantautrici dove appunto ognuna di noi siamo in cinque ha il proprio progetto però poi ci uniamo spesso in questo collettivo soprattutto nei concerti diciamo per in qualche modo contrastare un po' il gap che c'è nella musica a livello di genere anche per normalizzare la presenza delle donne sul palco perché c'eravamo rese conto che cinque donne tutte insieme facevano ancora impressione un certo effetto invece magari cinque uomini come la normalità come qualunque gruppo storico è normale e quindi dicci che è ancora così Anna c'è ancora così nel 2024 ancora se vediamo appunto i club dog che su tutti i maschi van bene se vediamo tre, quattro, cinque ragazze che suonano insieme ci fanno specie sì così come se vedi una ragazza che si produce o fa la batterista ancora fa effetto a me anche cioè a tutti e tutte e quindi abbiamo deciso di fare cioè il tipo di concerto che facciamo solitamente è con le nostre canzoni ognuna fa le proprie canzoni però le cantiamo tutte insieme e ci passiamo la chitarra un po' come testimone e anche per distruggere un po' di stereotipi sulle donne che non fanno rete che si odiano meglio fare sorellanza meglio fare rete per amplificare le nostre voci insomma e domani sarà l'unica serata con ospiti verranno a Milano a fare due pezzi con me due miei pezzi con me in quella modalità lì ok per il collettivo di dov'è il collettivo di solito allora il collettivo è nato a Torino perché vivevamo tutti a Torino tu hai vissuto ovunque cioè tu hai fatto veramente il giro d'Italia sembrava sentare bene no? sì però adesso una Rossana De Pace vive qui a Milano con me Irene Buselli a Genova Valera Rossi a Como e francamente Francesca Siano a Berlino ok quindi diciamo che fare le prove non è la cosa più facile del mondo quindi francamente è quella che invidiate tutti perché vive nella città più bella giusto quella che vive a Berlino esatto a proposito di città la cosa interessante secondo me Anna è che tu sei di dove ricordiamolo bene di Catania di Catania ok perfetto tu ami la tua terra lo dici spesso lo racconti spesso e tutto ma sei diventata milanese in un attimo posso dirtelo perché? sei nel contesto secondo me di questa città perfettamente devo dire che anche abbiamo visto quello che prima io definivo videoclip tu poi mi hai detto sono un reel in realtà però ad esempio Partecipo Presente una delle tue canzoni ha un reel girato in mezzo alla città tra Piazza Duomo e la metropolitana che però ti fa sembrare mi viene in mente gli annacci Gaber Anna Castiglia mi viene così chiudevo il trio in quella maniera nel senso che sei veramente è una tua facilità dell'essere un po' zeliga anche molto probabilmente avendo girato tanto per potersi plasmare alle realtà oppure sono le realtà che le plasmi a te non lo so questo lo capiremo però insomma ti vedo perfettamente a Milano oppure è una città che ti sta facendo soffrire un po' dimmi un po' ma allora quando sono arrivata mi è piaciuta troppo già ero venuta mille volte a Milano perché vivendo a Torino mi è capitato spesso di fare viaggi così adesso ultimamente mi ha fatto veramente patire la pioggia infatti sono felicissima che oggi ci sia il sole e anche la nebbia cioè tipo non ce la stavo facendo più e anche il fatto di vivere molto sotto terra è per questo che ho scelto la metro è l'azione di camminare tanto perché è quello che faccio tutti i giorni ed è quello che un emergente quello di cui parla la canzone fa si affatica via sotto terra e a piedi non hai mezzi non hai un mezzo suo per oggi quando si dice musica no Anna quando si dice musica underground in quel caso è veramente underground esattamente sotto terra no sposta no però adoro Milano perché è molto europea e stare qui è come viaggiare mentre sei ferma e quindi adoro questa cosa questo aspetto qui com'è fare musica qua invece? fare musica qua penso sia più facile rispetto ad altri posti ma allo stesso tempo più difficile perché sono tutti qua e quindi ci sono devo ancora inquadrarla perché in realtà sono qui da poco un anno e mezzo l'anno scorso ho studiato sono qui per il conservatorio l'anno scorso avevo deciso di prendermi una pausa poi però è arrivato X-Facto ho detto basta ora voglio studiare neanche il tempo di dirlo è che è successo tutto però non ho fatto la classica gavetta come a Torino che magari andavo in tutti i localini così però ho noto anche da pubblico che ci sono tante scene musicali tanti gruppetti mi piacerebbe che si comunicasse un po' di più ecco che ci fosse più una rete però è difficile perché è molto grande come città mentre a Torino magari c'era di più questa cosa perché è piccolina più facile quindi era più facile che tutti si conoscano tu sai che domani suoni in un locale storico di Milano nel senso l'arcibellezza è qualcosa di veramente importante dal punto di vista culturale non solo musicale di questa città sì ma io la prima volta che l'ho visto è stata la prima settimana che mi sono trasferita ero incantato ho detto a me piacerebbe tantissimo prima o poi suonare qui e infatti sono strafelice cioè incredibile guardate da grande fan di Anna Castiglia devo dirvi che ho solo un dispiacere per lei il fatto che lei non possa suonare le scimmie vi dico la verità peccato che ha chiuso le scimmie perché Anna Castiglia era la cantante giusta da far suonare le scimmie semmai Anna un giorno cerca e guarda cos'erano le scimmie le scimmie erano un locale storico che c'era su un barcone sul naviglio famoso anche per i videoclip delle vibrazioni però insomma nel senso era un luogo importante della nostra città dove hanno suonato tutti i più grandi e quindi davvero peccato non poterti far suonare lì perché era veramente forse qualcosa di importante tu oggi sei a Milano ma per poche ore perché fra un po' te ne vai giusto dove devi andare oggi si tra poco vado a Firenze per un evento e non in piazza Firenze va a Firenze città cioè non ok si vado a Firenze città per poi ritornare domani giusto in tempo per il concerto lo prometto speriamo però vado a fare un evento che si chiama Be Kind una manifestazione dedicata ai giovani quindi aperta alle scuole sulla gentilezza in cui sono stata invitata a fare qualche pezzo a parlare dell'argomento non è la prima volta che collabori con le scuole con i ragazzi giovani vero? è una cosa che ti interessa questa? esatto sì quest'anno ho fatto già tre date con oddio mi sto sfuggendo la sigla è un'associazione è nata tra l'altro a Catania che però adesso è in tutta Italia l'ho fatta anche qui a Milano che simula le Nazioni Unite quindi questi ragazzi vestiti da ambasciatori serissimi parlano inglese ognuno rappresenta un paese risolvono delle problematiche e io ero stata lì come ospite mi ricordo che anche quando ero a scuola c'era questa cosa quindi mi piace insomma allora quindi domani c'è appunto c'è stasera appunto oggi c'è a Firenze appunto con questa bellissima iniziativa verso le scuole domani sei all'arcibellezza insomma sempre in giro sempre in giro com'è questa vita da vagabondi si riesce a fare è bellissima sì certo puoi fare solo questo perché il momento in cui sei ferma non riesco a studiare sicuramente a concentrarmi ogni volta mi devo riprendere non lo so mi devo abituare sicuramente c'è chi riesce a studiare in tour magari e le canzoni nuove come fanno ad arrivare le hai già lì tutte pronte oppure i viaggi servono per questo ma allora i viaggi servono ho scritto molte volte in viaggio non per forza di un tour però è anche vero che secondo me è un lavoro molto stagionale ci sono momenti in cui stai a scrivere sedentari e momenti invece in cui giri non ti fermi non fermarsi a volte non fa metabolizzare alcuni pensieri quindi alcune canzoni ci sarà il momento in cui arriveranno in realtà ne ho già scritte di nuove nel frattempo però insomma adesso sono molto deconcentrato prima di salutarti voglio chiederti una cosa tu hai seguito sicuramente la questione San Giovanni quello che è successo e tutto quello che c'è intorno appunto a quel tema tu stai iniziando adesso non ti spaventa un po' tutto questo? sì mi spaventa molto però sono contenta che finalmente San Giovanni abbia posto l'attenzione su questo argomento perché è quotidiano anche per chi è emergente ecco ma già già al tuo livello per intenderci facci capire un attimo tu sei appunto tu sei al primo gradino di una scala molto lunga che può arrivare fino a pausini e oltre non so come dire fino a diventare madonna non so come dire ok è già così però già così ai punti più bassi cioè quando si parte diciamo che la pressione c'è sempre anche l'emergente che a maggior ragione non sa come come emergere cerca di seguire quelle logiche lì dei numeri perché stiamo parlando di numeri qui che sono istruttivi ovvio che a quei livelli lì la pressione è altissima perché se è già arrivato devi mantenere alto il livello cioè l'attenzione è più che altro perché il livello purtroppo non si considera la qualità non esiste perché i numeri non sono legati a quello cioè fossero legati solo a quello uno è più tranquillo perché sono più legati al tuo fare invece no ricordiamo però che appunto grazie allo streaming e tutto quello che è tu sei diventata miliardaria giusto mi ricordo una storia di qualche tempo fa dove hai detto che cosa ricordiamo un attimo noi abbiamo subito riportato la notizia quando era uscita quale non mi ricordo hai fatto vedere che avevi guadagnato praticamente 12 euro una cosa del genere ah esatto grazie alla SIAE assolutamente giusto quant'è che avevi guadagnato con 60 passamila ascolti sì cioè quelli sono i miei proventi SIAE del primo semestre 12 euro che comunque ci avrò comprato una tracolla per la chitarra infatti io ti avrò comprato una pizza con coca cola perché un birra già secondo me superavi 12 euro a Milano però per far capire appunto che forse poi bisogna veramente cominciare a trottare e girare anche per quello perché se vogliamo farlo diventare un mestiere questo insomma bisogna darsi da fare Anna grazie mille davvero complimenti ancora per tutto quello che stai combinando e facendo in giro seguite Anna Castiglia sui vari social così fate un po' di numeri così l'ansia da numeri discende un attimino giustamente facciamolo quando mettiamo un like mettiamolo per il benessere anche psicofisico del cantante va bene facciamolo con questa missione e Anna domani sera quindi ricordiamo appunto all'arci bellezza alle ore 21 grande concerto con anche un po' di ospiti insomma c'è tanta tanta buona musica ciao Fabio è stato un piacere piacere nostro riprenditi mi raccomando grazie sì anche io ho bisogno del like per il mio benessere psicofisico grazie va bene grazie mille Anna Castiglia e andiamo appunto con participio presente alle 8 e 55 minuti qui su cristal radio e poi ci fermiamo un attimo giornale radio e poi torniamo ancora qui con noi non è vero no particimo presente poi torniamo a salutarci scusate ho sbagliato tutto stamattina c'è la febbre c'è la febbre c'è la febbre mese in trasferta in quel della Puglia buon compleanno alla nostra Katia che ci ascolta tutte le mattine appunto in diretta qui su cristal radio fin dalla Puglia pensate auguri ancora Katia tantissi auguri buon compleanno e non è in trasferta ma anzi è qui su cristal radio Ambrogio Kurti sempre dopo di noi quest'oggi un po' in ritardo per colpa mia ma sempre qui per raccontarci la grande musica italiana ed internazionale con una nuova puntata di senti questa a te Ambrogio ciao a tutti ci sentiamo domani sempre qui in diretta dalle 7 alle 9 in diretta con Good Morning Milano ciao a tutti ciao ciao chiudo 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 ciao